Un unico ringraziamento perché, altrimenti rischierei di dimenticare qualcuno, testimonia l'importanza che viene da fare l'attività di questa scuola e soprattutto conferisce a questa cerimonia anche il valore simbolico che merita. Mi sia consentito poi un particolare ringraziamento dal procuratore generale della Corte di Cassazione dottor Luigi Salvato che è appena intervenuto autorevolmente sul tema molto attuale, quella appunto della presunzione di innocenza, la comunicazione e la formazione. È un tema come si è potuto cogliere che attiene alla credibilità della funzione di giustizia ma anche alla responsabilità della funzione dell'attività delle forze di polizia che riguarda per l'appunto non solo i magistrati ma anche il mondo della comunicazione e appunto gli operatori delle forze dell'ordine, soprattutto qua e non solo, quando sono coinvolti in attività di polizia giudiziaria. È stato detto dal procuratore, questo soprattutto nell'epoca del web, specie nel mondo del web, è molto importante perché soprattutto attraverso la comunicazione via social si assiste di recente a vere e proprie condanne con lo spirito di un autentico royalismo giudiziario. La verità storica e quella giudiziaria rischiano dal modo di retrocedere rispetto a quella giornalistica con il rischio di una inaccettabile compromissione della presunzione di innocenza e degli stessi principi del giusto processo. È bene affatto il procuratore a evidenziare quali principi sono dietro l'affermazione anche costituzionale di questi valori. Quindi se la presunzione di innocenza è il fondamento della relazione tra il soggetto e il sistema penale e della procedura penale è chiaro che si tratta di un presidio di civiltà giuridica che deve essere assolutamente tutelato da ogni forma di compromissione. I tre valori, i tre elementi, la presunzione di innocenza, la comunicazione e la contazione, sono tre principi che attengono ai valori più profondi della nostra Costituzione e in tal modo connotando in maniera inconfondibile, come ci ha ricordato il procuratore, la nostra cultura di sicurezza e di giustizia, che è una cultura peraltro pienamente consapevole del fatto che la dignità umana deve essere posta al vertice di ogni pubblica funzione. Per questo non riguarda solo le attività della comunicazione, riguarda un po' tutte le attività delle pubbliche istituzioni, delle forze di polizia, in maniera una scuola di polizia interforze, penso a tutte le attività in cui si afferma l'autorità dello Stato che pongono in una civiltà come la nostra esigenza di un bilanciato equilibrio rispetto a quelli che sono i diritti fondamentali delle persone, penso, quando si esercita ad esempio l'elemento importante della forza pubblica. E per questo, a fine di tutelare il principio della presunzione di innocenza, è necessario, come ha detto il procuratore, investire sulla formazione, della formazione soprattutto agli operatori del mondo giudiziale e delle forze di polizia, anche per favorire e ristaurarsi di processi comunicativi corretti con il mondo della comunicazione dei media. La risposta ad una legittima domanda di sicurezza e di giustizia è quella di politiche interamente iscritte in un perimetro valoriale che abbia al suo centro i diritti di libertà e le funzioni di giustizia e di sicurezza sono diventate a garantire l'esercizio pacifico dei diritti e del compiuto declinarsi di una piena cittadinanza. Fare sicurezza e giustizia quindi vuol dire essere parte di un uomanesimo che dall'entrata in vigore della Costituzione non ha ancora smesso di dare i suoi frutti e di produrre i suoi effetti. Sicurezza e giustizia come tasselle indispensabili di un progetto che veda al suo abice il valore dell'uomo e dei diritti inviolabili sanciti dalla nostra carta costituzionale. Il nostro modello di sicurezza lo dico qui, in questa scuola si fonda come noto su un coordinamento ed è un concetto non lontano dai temi e della finalità di cui stiamo parlando, è un concetto che nell'ambito delle forze di polizia è emblematico di una moderna e democratica cultura della sicurezza. Questo perché il coordinamento è uno spartiaccio, una cesura tra due diversi modi di fare sicurezza. È una sintesi lessicale in cui la funzione di polizia si riconosce appunto democratica e plurale. E la scuola del coordinamento delle forze di polizia è un esempio concreto. In queste aule il concetto di sicurezza si evolve da oltre 40 anni nella sua istituzione accompagnando i mutamenti della società e delle sue sempre rinnovate sollecitazioni. La sicurezza è un'istanza antica quanto buono, ma destinata a modificarsi e a modellarsi sulla spinta della rapida evoluzione degli scenari sociali e dei modelli di convivenza. Anche questo abbiamo colto dalla conclusione che ci ha fatto il procuratore Salvatore. Non è senza significato che in alcune delle costituzioni originali degli Stati Uniti il diritto alla sicurezza sia proclamato al capo al diritto alla felicità. È un accostamento che ci dà il senso di quanto nella storia delle comunità si era dotata alla domanda di sicurezza e quanto la sua percezione sia legata inestricabilmente al concetto di vivere bene. La sicurezza quindi come precondizione della libertà dei cittadini. Ed eludere questa domanda significa accettare il rischio di una pericolosa frammentazione sociale, di un rinchiudersi in piccole patrie senza obiettivi, di un rinpegamento individualistico senza alcuno slancio verso forme di partecipazione democratica. La sicurezza è un moltiplicatore di occasioni di benessere, di sviluppo, di ricerca, di promozione e tutela soprattutto delle fasce più vulnerabili della società. Nel recentissimo rapporto Censis si parla di un'americanizzazione della criminalità nelle grandi aere urbani, questo è un concetto che mi piace ricordare rispetto alle tante cose che stiamo facendo. Questa è un'espressione utilizzata per dare conto di un risultato di una ricerca del cui emerge come la percezione di sicurezza diminuisca in maniera maggiore, sensibile, tra chi vive in grandi aggregati urbani rispetto a coloro che abitano centri medio-vicoli. Non è un tema di secondaria importanza anche per un paese come il nostro che va sempre più verso un'evoluzione del addensamento della popolazione intorno alle grandi aere metropolitani, grandi centri urbani rispetto allo spopolamento delle cosiddette aere interne. E al di là del dato statistico sulla delitosità, che pure ha la sua importanza, l'allarme sociale è stato registrato, ma è di maniera esponenziale in zone più densamente abitate, in cui è probabile che il legame con la comunità di riferimento, nelle quali situazioni di degrado urbano e sociali favoriscono da un lato forme di micro criminalità e dall'altro un maggiore senso di spaesamento, di insicurezza. Nelle aree metropolitane si gioca quindi una partita fondamentale per la tenuta della coesione sociale dell'intero paese, ma anche per il suo prospettivo di sviluppo e di benessere. È un dato che ci spinge, ci deve spingere a proseguire con determinazione, come dicevo, nelle azioni che abbiamo intravreso già da Ranna a favore della sicurezza, soprattutto nelle grandi città, ovviamente non solo, con un approccio corale che va oltre la tradizionale attività di protezione e contrasto dei fenomeni criminali. Si tratta di avanzati esperimenti che ci piace definire di sicurezza sociale, che potranno essere replicati in realtà interessati da analoghi fenomeni di degrado. Situazioni, sono quelle che sono emerse negli ultimi anni, da affrontare con strategie ed approcci diversi, con misure e interventi innovative. Ecco che in questa prospettiva, come pure è stato sottolineato nella collusione che ci ha fatto il procuratore, la votazione si conferma lo strumento che più efficacemente contribuisce ad affinare le doti di comprensione e analisi degli scenari nella prospettiva di adottare misure più idonee per affrontare e risolvere le situazioni di crisi. Per le forze di polizia, come è stato detto, questo vale ancora di più, perché la preparazione e la competenza di ogni singolo operatore della sicurezza rappresenta sicuramente un investimento fondamentale per l'intero Paese, dato o considerato le delicate funzioni che esse sono chiamate a svolgere. Quindi, mi ricordo già da voi, cari ufficiali e funzionari che siete qui presenti, che partecipate alle attività didattiche e formative di questa importante istituzione, sappiate che poi è affidata alla realizzazione di un disegno collettivo di sicurezza e legalità, è ben consapevole proprio la scuola che è chiamata a preparare professionalmente da 40 anni, ma soprattutto a favorire una cultura del confronto, a diffondere una sensibilità di apertura a nuove prospettive. Anche i moduli didattici dedicati alle relazioni in ambito europeo e internazionali, saputo, gli annunciatori presenti in platea che dimostrano l'attenzione che c'è anche in ambito delle relazioni internazionali del nostro sistema di polizia, offrono testimonianze eloquente di un approccio complesso in uno scenario della sicurezza. Quello che sul piano interno si chiama coordinamento, che è uno dei capi anche dell'istituzione originale di questa scuola, sullo scattiere internazionale si traduce nel concetto di cooperazione. Ciò che è accaduto nel mondo a partire dal settembre del 2001 ha convinto anche i più sceltici che la strada del coordinamento e della cooperazione in ambito internazionale è l'unica ad avere una maggiore possibilità di successo rispetto a minacce asimmetriche, in primis quella del terrorismo che si sta riaffacciando in maniera insidiosa e destabilizzante anche nelle città europee e quindi è lungibilata l'introduzione in via sperimentale nell'ambito del corso di alta formazione, come è stato indicato nella presentazione, di due moduli formativi in materia di criminalità economica e in materia di criminalità informatica. Se c'è un dato che emerge dalle più recenti indagini giudiziali e il fatto che il riciclamento ad esempio costituisca spesso oggi la chiave di morte, il cuore, il moltiplicatore di forza, di molte delle attività della criminalità organizzata e non solo, pensiamo alle sue connessioni con il terrorismo internazionale, con il traffico degli esseri umani, con il cybercrime, con più tante altre attività dirittuose che si compiono sul territorio nazionale e non solo. In definitiva le spille che ci attendono non sono semplici, la velocità e la complessità dei fenomeni ci chiamano a traguardi sempre più impegnativi. La professionalità e la responsabilità sono i due poli per i quali oggi i funzionari e gli ufficiali delle forze di polizia devono adeguere il proprio servizio a tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza dei paesi, come nel codice originario delle rispettive istituzioni. Quanto di completamente nuovo si è affacciato nel campo della sicurezza impone necessariamente una formazione di alto livello, dallo sguardo lungimirante, dall'approccio strutturale e solido. E questa scuola è in sé, come abbiamo sempre detto, nelle ragioni stesse della sua fondazione la capacità e la visione per formare funzionari e ufficiali delle forze di polizia all'altezza di questo ambizioso compito. In queste aure si gettano le basi perché il nostro sistema di nuovo enforcement possa continuare a rappresentare un modello studiato ed apprezzato a livello internazionale, come ci siamo anche detti in interlocuzioni privati. Quindi io ringrazio, forno l'occasione per ringraziare il direttore della scuola per quello che fa, per l'organizzazione dei lavori della scuola e di quanto io ho più sentito quello che collabora con i frequentatori del prossimo ciclo di studi e visto che questo è anche un periodo di chiusura di anno, quindi di bilanci e di prospettive, forno anche aperto l'anno accademico 2023-2024 della scuola di perfezionamento delle forze di polizia. Grazie.